quante volte avete rinunciato a mettere una grattatina di frutta secca nelle vostre insalate o nei vostri primi piatti bene oggi con misetti sarà un gioco da ragazzi vi spiego come semplicissimo andiamo a svitare quello che è il nostro macina frutta secca andiamo a riempirlo con la nostra frutta secca preferita e il gioco è fatto adesso andiamo a decorare il nostro piatto e a dare sapore ecco fatto la nostra ventata di zucca sarà aromatizzata con le nostre noci peca il nostro piatto è servito grazie a tutti